Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché l'altra sera post-Iventus Lazio ho detto una frase e riascoltandola nella mia mente non suonava troppo bene. E cioè una domanda. Quando vi chiedevo qualcosa è cambiato, secondo voi cosa? Perché ora fatico anche a dirvi che cosa possa essere successo. Però questa cosa, devo dire la verità, mi dà fastidio perché semplicemente voglio provare a dare una mia spiegazione, una mia interpretazione e ora che siamo un po' a bocce ferme e che tutto è in pausa, in attesa del Mondiale ho deciso di raccogliere alcune sensazioni e alcune opinioni appunto riguardo a quello che è stato il percorso di crescita della Juventus dalla prima parte della stagione fino al momento attuale. Vi dico che questo video sarà collegato ad altri due. Uno uscirà domani e riguarderà la mia posizione riguardo a Massimiliano Allegri perché ricorderete che qualche settimana fa, qualche mese fa vi avevo detto io in questo momento esonererei Massimiliano Allegri e voglio farvi sapere se sono ancora di questa opinione, se ho cambiato idea, se sono un po' più aperto, un po' più chiuso dato che non ho ancora risposta a questa domanda in tanti me la state facendo. Non voglio assolutamente rispondervi oggi quindi guardatevi questo video poi domani riprenderemo il discorso e un altro video ancora che sarà una valutazione generale di quello che è stato il percorso in Serie A e in Champions League della Juventus nelle prime 15 partite di Serie A più 6 di Champions quindi 21 partite stagionali bene male siamo a un terzo della stagione un po' oltre, quasi più, verso un mezzo quindi dopo ragioneremo tutti insieme in altri due video e quindi vi invito a seguire questa collana come avete fatto comunque con gli ultimi video pubblicati anche del post partita Juventus Lazio, analisi, informazioni, analisi, valutazioni, analisi, live reaction analisi più cose quindi vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato ai video fino adesso vi invito a commentare qui sotto per dirmi la vostra perché voglio sapere anche se ci sono dei punti che magari ho lasciato fuori dato che andremo a strutturare il discorso diviso per organi competenti di lasciare un mi piace a questo video e di scaricare numero 10 il link per il download è qui sotto in descrizione il download è completamente gratuito e potrete trovare diversi contenuti esclusivi pubblicati dal sottoscritto come video e articoli quindi non fatevi assolutamente mancare numero 10 sui vostri smartphone dato che è completamente gratis e non dovete perdere questa occasione allora per iniziare a discutere vorrei partire da quello che è stato la divisione il rendimento delle prime 9 partite stagionali e delle ultime 6 ovviamente qui parliamo soltanto della Serie A la Champions la lasciamo fuori anche perché di Champions comunque abbiamo già parlato abbiamo già dato un voto alla Champions però voglio ragionare un attimo su quella che è la Serie A per il momento perché la Champions ormai siamo usciti e c'è poco da fare invece in Serie A ci sono altre 23 partite da disputare altre 23 partite da vivere dove sperare di poter migliorare ulteriormente questo terzo posto in classifica che ci ritroviamo ad avere a fine 2022 e quindi le prime 9 Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina, Salernitana, Monza, Bologna e Milan 9 partite disputate, 12 gol fatti, 7 gol subiti, 13 punti questa è una media da squadra in metà classifica e infatti la Juventus in quel momento era praticamente all'ottavo posto in Serie A in realtà forse è anche qualcosina di meno rispetto alla metà classifica però mai come quest'anno le ultime stanno facendo fatica a fare punti le ultime 3 e quindi questo sposta probabilmente verso l'alto un po' la valutazione della Juventus che appunto in 9 partite ha fatto 13 punti e non era accettabile era qualcosa di particolare, qualcosa di brutto perché ne fai 3 col Sassuolo, 3 con l'Ospezia, 3 col Bologna poi fai una sconfitta col Monza addirittura una sconfitta col Milan per 2-0 non per 3-1 come avevo detto nel video l'altro giorno e poi pareggi con Samp, con Roma, con Fiorentina, Salernitana insomma è un andazzo non proprio eccezionale diciamo così, si poteva fare decisamente meglio e invece le altre 6, le ultime 6, il filotto affrontiamo Torino, Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio 6 partite, 12 gol fatti, 0 gol subiti 18 punti conquistati quindi 9 partite, prime 9 partite 12 gol fatti, 7 subiti e 13 punti ultime 6 partite, 12 gol fatti, 0 subiti e 18 punti è cambiato il mondo c'è poco da girarci intorno e ancora una volta come una rincorsa del secondo scudetto firmato Massimo Lianallegri quindi quello post-Berlino stagione 2015-2016 il filotto inizia proprio dal Torino ormai è diventato un classico diciamo così, è diventato un classico che le rincorse della Juventus in campionato possano iniziare proprio dal Toro ma qui è cambiato tutto ragazzi c'è poco da starci a girare intorno qualcuno potrà dirmi sì però hai affrontato partite facili all'interno delle ultime 6 è quindi naturale che perché Sampdoria, Spezia, Sassuolo Salernitana, Monza, Bologna non erano partite facili e con alcuni hai vinto e con altre no con qualcuno hai pareggiato con qualcuno hai addirittura perso quindi capite bene che la discriminante del livello di difficoltà della partita conta fino a un certo punto anche perché di partite facili secondo me per questa Juve non ce ne sono dato che in questo momento comunque nonostante il filotto devo dirvi la verità io non mi sento completamente guarito io ho ancora la percezione che comunque questa squadra possa fare qualsiasi risultato negativo contro qualsiasi squadra perché poi vado un attimino a ripercorrere anche le vittorie con Lecce della Sverona e noi facciamo un gol abbastanza fortunoso con l'Ellas e con una deviazione senza quell'unico tiro in porta grande della partita probabilmente potevamo non sbloccarla e quindi non vincerla con Lecce c'è quel palo al novantesimo del Lecce che poteva cambiare completamente l'andamento della partita sono andate così sono cose positive per la Juventus sono punti e quindi fiducia perché se andate a risalere in classifica ogni squadra comunque si trova di fronte a questi episodi però insomma la Juve non è completamente guarita ha avuto un boost sicuramente che si può vedere all'interno degli scontri retti perché Inter e Lazio che erano due scontri retti due squadre che dovevi affrontare e battere per cercare di recuperare posizioni in classifica le hai battute e io ho proprio avvertito un senso di tranquillità soprattutto con la Lazio che non avvertivo davvero dal primo ciclo di Allegri e quindi lì sì che si è fatto un passo in avanti dal punto di vista proprio della consapevolezza dei propri mezzi una piccola nota negativa e una grande nota positiva parto dalla positiva siamo la miglior difesa della Serie A con soltanto 7 gol subiti in 15 partite che è tanta 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 roba nota negativa invece secondo me segniamo ancora pochi gol abbiamo fatto 24 gol in 15 partite che mi sembrano pochi soprattutto confrontandoli con i dati delle squadre che sono lì davanti insieme a noi dobbiamo migliorare questa cosa qui però è ovvio che anche questo è un dato che si porta dietro la fatica e la difficoltà della prima parte di stagione in Serie A e ora andiamo a capire che cosa è cambiato a seconda degli interpreti perché come ricorderete ci sono sempre tre cose da valutare la dirigenza l'allenatore e i giocatori che cosa ha cambiato la dirigenza e la risposta che vi darò sarà forte ma secondo me anche riflessiva niente la dirigenza non ha fatto niente ma niente allo stesso tempo è stata una scelta ricorderete che avevo già fatto questo discorso e cioè in questo momento vi dicevo post Monza dopo la prima pausa nazionale la dirigenza deve scegliere se fare o non fare ma in ogni caso anche il non fare è una scelta e ha non fatto e cioè non esonerato Allegri confermato Allegri scelta giusta sbagliata si rivelerà ancora essere scelta giusta ancora essere scelta sbagliata non lo sappiamo non lo sappiamo perché non abbiamo terminato l'anno e questo è un messaggio che voglio passarvi forte e chiaro non abbiamo ancora fatto niente abbiamo migliorato sì ma non abbiamo concluso l'anno e non abbiamo fatto niente vado avanti vado avanti però prima di passare alla squadra voglio sottolineare l'importanza che c'è stata nella parola vergogna pronunciata da Andrea Agnelli post Maccabi perché il presidente della Juventus che dice vergogna la parola vergogna è pesante è pesante e credo che abbia radicalmente cambiato l'ambiente ai microfoni e che poi ci sia stato appunto un discorso post Maccabi tenuto da Nedved e Agnelli sappiamo è un dato di fatto e cronaca dove è stata ripetuta questa parola vergogna e questa cosa probabilmente nel cervello dei giocatori nel cervello dell'allenatore un pochino ha fatto breccia quindi niente nel senso ha scelto di confermare e vergogna queste sono state le due mosse della dirigenza nel momento più difficile nel momento più buio nel momento più duro passiamo alla squadra perché che cosa ha cambiato la squadra quindi il gruppo di giocatori beh voglia grinta e sacrificio queste tre componenti prima non si vedevano e quando vi dicevo guardate che Agnelli nel discorso comunque ha ragione parlando di tutte le parti in causa dalla dirigenza la squadra l'allenatore perché non è mai solo colpa di uno ci possono essere più colpe di uno e quindi una maggior parte di responsabilità da dividere con qualcuno con un gruppo di persone ma non è mai solo colpa di uno quando vi dicevo io esonererei Allegri però attenzione che la squadra ha voglia della grinta e del sacrificio non ce le mette adesso ce le mette adesso si vedono l'altra sera vi dicevo c'è più voglia e si vede questa voglia da parte della squadra di vincere la partita la parola vergogna secondo me ha toccato questa corda questo tasto molto importante per la squadra e infatti oggi siamo più squadra prima non lo eravamo ricordatevi Chiellini nella seconda partita del ritorno di Allegri in panchina e quindi Empoli-Juventus la prima in casa da ritorno di Allegri che si confronta proprio con Allegri e dice non è squadra non eravamo squadra all'epoca lo siamo diventati leggermente nel corso della stagione perché si sono visti dei piccoli miglioramenti ma perché si erano stati veramente male e invece adesso si sono visti dei grossi miglioramenti e ribadisco Juventus-Lazio mi ha riportato alla mente quelle partite del primo ciclo di Allegri in cui si era tranquilli si sapeva c'era quella consapevolezza di essere superiore agli avversari che ti portavano a vincere le partite e ora siamo squadra ora mi sento di dire siamo squadra anche nelle partite sporche Luri, De Lerce come quella con Lella Sverona quella con Lecce si è vista quella voglia quel sacrificio quel mettersi a disposizione di quell'altro che prima semplicemente non si era mai vista e attenzione perché la Juve rimane una squadra con tanti infortunati gli infortunati sono sempre presenti però oggi c'è più gamba oggi c'è più gamba e probabilmente qua si collega anche allo staff atletico però un giocatore che ha più gamba ci mette più cuore più passione più spirito di sacrificio fa la corsa in più per l'avversario perché sa che può farla ieri vi dicevo la Juventus è un diesel sì la Juventus parte un po' più piano e nei secondi tempi viene fuori ricordate quando davanti allo stadio del PSG vi dicevo ci sono due problemi uno di testa e uno di gambe non è uno solo perché a seconda di come la leggiamo la partita con la Fiorentina che era stata quella prima era un problema di atteggiamento adesso un problema erano due problemi distinti la risposta era erano due problemi distinti erano esatte entrambe e oggi lo possiamo dire proprio perché dalla testa passa questa voglia evidente che c'è in più in campo e dalle gambe passa la possibilità di dare questa voglia quindi testa e gambe che vanno a toccare il cuore erano due cose indispensabili due cose che mancavano e per forza poi non fai risultati quando ti manca cuore testa e gambe sono tre componenti importantissimi all'interno del campo da calcio e allora qui mi viene in mente un tweet del Pala saluto al Pala che ha risposto al mio tweet iniziale nel quale chiedevo anche a voi un po' di opinioni su che cosa è cambiato e Pala ha scritto questo hanno capito che Allegri sarebbe rimasto anche perdendole tutte da qui a maggio e allora la domanda che mi viene in mente è col Monza e col Maccabi e forse anche il primo tempo con la Salernitana hanno perso di proposito? perché non so ancora dirvi spero che abbiam perso di proposito spero che non abbiam perso di proposito perché spero che non abbiam perso di proposito nel senso dimostrano di non essere una squadra scarsa come tanti l'avevano etichettata mi è capitato risentire sapete benissimo che sono stato ospite sul canale di un collega che mi ha detto questa squadra è più scarsa che quella dei due settimi posti e io ero paralizzato di fronte a questa affermazione perché non è assolutamente vero non è assolutamente vero e far passare questa squadra per scarsa beh secondo me ce ne passa ancora prima di etichettare questa squadra come scarsa perché non lo è allo stesso tempo una squadra che gioca contro l'allenatore secondo me è disonorevole e quindi la domanda che vi faccio è hanno effettivamente perso apposta quelle due partite e giocato contro l'allenatore anche il primo tempo con la Salernitana per poi trovare il moto d'orgoglio terminato con quello scandalo del gol non ha segnato a Milica al novantesimo questa è una domanda importante e secondo me è difficile a cui rispondere non saremo mai tutti d'accordo probabilmente però bisogna veramente prendere in considerazione e poi passiamo ad Allegri e attenzione perché lato Allegri io in questo momento vorrei cercare di fermarmi proprio perché come vi dicevo andrò a utilizzare queste cose che ha cambiato Allegri per strutturare il video di domani e quindi vi lascio un attimo qui aggiungo però che sono cambiate altre cose incontrollabili incontrollabili dall'allenatore incontrollabili dalla squadra incontrollabili dalla dirigenza e cioè è cambiata la fortuna l'inerzia della fortuna un pizzico di fortuna quanto basta ma anche a livello di calendario trovare l'Inter con questo incastro da affrontare prima della sosta per poter leggere finalmente una classifica diversa e quindi riuscire ad affrontare nel migliore dei modi sullo slancio psicologico positivo sullo slancio fisico positivo della squadra due partite due scontri diretti che ti dava la possibilità di ottenere un sorpasso un doppio sorpasso è un pizzico di fortuna prima vi parlavo del palo del Lecce o della deviazione dell'Ellas che fanno quattro punti in più perché se entra il palo del Lecce perdi due punti a Lecce se non c'è la deviazione sul gol di Ken magari non fai gol e perdi due punti lì quindi sono quattro punti in più un pizzico di fortuna in più c'è ma la fortuna attenzione te la devi anche creare devi anche essere bravo a createla perché nel momento in cui va tutto male anche l'episodio va male nel momento in cui le cose iniziano ad andare bene anche l'episodio va bene il calcio lo sport la vita è basata anche sulla fortuna forse anche soprattutto ma non solo perché deve avere quella parte di bravura necessaria tale per cui la fortuna decide di venire dalla tua parte quindi sì anche un po' di fortuna perché negli episodi probabilmente siamo stati fortunati in alcuni episodi che poi hanno permesso alla Juventus di macinare punti ma non solo fortuna anche bravura anche cose che sono cambiate e io lo so che siete impazienti di sapere che cos'è cambiato l'atto Allegri cos'ha modificato Allegri per arrivare a questa situazione ma per questo bisogna aspettare e quindi appuntamento domani aspetto le vostre considerazioni su dirigenza e squadra qui sotto nei commenti e voglio anche un piccolo spoiler già su quello che secondo voi dirò su Massimo Milano Allegri Grazie Grazie